Alle prime ore di questa mattina, Trapani, Palermo, Benevento, Bari, Porta Empedocche, Mazzara del Vallo e Avola, i carabinieri del comando provinciale di Trapani e il personale del nucleo investigativo regionale Sicilia della Polizia Penitenziaria hanno dato esecuzione ad una ordinanza di applicazione di misure cautelari emessa dal GIP del Tribunale di Trapani su richiesta della locale Procura della Repubblica nei confronti di 24 persone, 17 in carcere, 5 agli arresti domiciliari, e 2 obbligo di dimora, persone indagate a vario titolo per corruzione, detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, abuso d'ufficio, truffa aggravata, falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici, falsità ideologica, omessa denuncia di reato, evasione e accesso in debito di dispositivi donei alla comunicazione da parte di soggetti detenuti nonché ulteriori violazioni del codice dell'ordinamento penitenziario. Il provvedimento compendia le risultanze scaturite dalle indagini dei carabinieri coordinate dalla locale Procura che dopo la denuncia di alcuni detenuti transitati dal penitenziario trapanese hanno documentato, fin da ottobre 2019 ad oggi, presunti episodi di corruzione di alcuni agenti della polizia penitenziaria già in servizio presso la casa circondariale Pietro Cerulli di Trapani, che dietro d'azione di denaro o altre utilità, comprese prestazioni sessuali da parte della convivente di un detenuto, avrebbero consentito l'introduzione in carcere di sostanze stupefacenti e telefonini, oltre 50 quelli sequestrati e altri beni come armi improprie, sigarette e profumi, in favore di soggetti reclusi anche appartenenti alla criminalità organizzata e ristretti presso i reparti di alta sicurezza. Dalle indagini sarebbe quindi emerso uno spaccato inquietante della realtà carceraria trapanese, dove la popolazione detenuta la possibilità di utilizzare i telefoni come strumento di comunicazione con l'esterno sembrerebbe essere divenuta indispensabile per la quotidianità all'interno degli istituti penitenziari. Gli investigatori avrebbero accertato le diverse modalità delle consegne in carcere, quando queste non erano possibili mediante l'aiuto degli agenti infedeli, gli espedienti utilizzati erano i più disparati, alcuni detenuti optavano per l'occultazione del materiale in scarpe o fin anche nelle cavità corporee, altri si avvalevano di tecniche innovative come il lancio all'interno dell'istituto penitenziario di un pallone da calcio preventivamente farcito con telefoni cellulari oppure mediante droni che persone specializzate mettevano a disposizione come un vero e proprio servizio di delivery. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, alcuni agenti infedeli avrebbero anche utilizzato certificazioni mediche attestanti falsi stati di malattia per poter svolgere lavori extra, quali ad esempio il servizio di sicurezza presso locali notturni oppure altre attività personali durante l'orario di lavoro. Nel corso dell'attività investigativa, denominata convenzionalmente Alcatraz, sono state complessivamente sottoposte a indagini 30 persone, tra cui quattro agenti di polizia penitenziaria, tutti non più in servizio, di cui due non destinatari di provvedimento cautelare. Uno degli ex agenti è indacato perché avrebbe omesso di denunciare all'autorità giudiziaria il presunto pestaggio di un detenuto a opera di alcuni agenti penitenziari.